Siamo a Via Nazionale, nel cuore di Roma, alle mie spalle l'Altare della Patria e questo è il Palazzo Cofla, splendida sede di Banca Italia. Oggi vi porteremo in un posto che è molto difficile accedere, il Cabot, dove è custodito il tesoro degli italiani. Primo passaggio di sicurezza. Possiamo entrare? Entriamo. Incredibile, proprio l'oro come uno se lo immagina. Sì. Quanti sono questi lingotti? In tutto il Cabot sono 90 milioni. È l'oro degli italiani? Sì.